La cultura è anche un mezzo per informare i cittadini e soprattutto per parlare dei corsi e dei ricorsi storici? Abbiamo preferito raccontare l'epidemia del coronavirus attraverso un riferimento letterario alla peste di Albert Camus perché sì, certo vogliamo fare cultura, non lo so se si può dire così, però sicuramente vogliamo attraverso la letteratura, come la letteratura sa fare, approfondire i temi che l'uomo affronta nella sua esistenza e quindi non è un caso per esempio che la peste che involge tante problematiche del rapporto dell'uomo con gli animali, con gli altri esseri viventi e con il mondo in generale sia stato affrontato ripetutamente nel corso della storia proprio dagli scrittori. Ma non solo, addirittura si rinvengono tracce che si riferiscono a racconti epidemici addirittura nella Bibbia, nell'antica Grecia, con lo storico Tucidide, con Sofloghe, nel re Edipo e andando avanti fino ad arrivare, si fa per dire, ai nostri giorni con Manzoni, al punto Albert Camus e persino José Saramago ed altri minori che a loro volta ne hanno parlato con sfumature e dettagli diversi. E quindi l'elemento letterario è quello, secondo noi, che dà la possibilità di comprendere meglio l'elemento umano, per quello l'abbiamo privilegiato. Quando tornerete a suonare tutti insieme? Verrete in Calabria? Venire a suonare in Calabria? Magari. Sappiamo che per il momento non è una cosa che si può fare e temo che non si potrà fare per parecchio tempo, né in Calabria e né altrove, in Italia e forse anche in diverse altre parti del mondo. Tuttavia noi confidiamo nel fatto che presto questa situazione cambierà positivamente, forse definitivamente, e quindi avremo la possibilità di rivederci sotto, sopra il palco, come noi spesso facciamo, di stare insieme, di cantare, di ballare, di fare tutto quello che l'essere umano in questi momenti di socializzazione può fare. È ovviamente una difficoltà che noi abbiamo anche a livello nazionale rappresentato alle istituzioni, perché non c'è in ginocchio soltanto la musica degli artisti, c'è in ginocchio tutto un settore dello spettacolo che è fatto di tanti lavoratori, di tante figure. Noi per il primo maggio addirittura abbiamo fatto un video molto ironico, autoironico, in cui parliamo di questi lavoratori che sono invisibili, comunque semisconosciuti, ma che sono il motore della macchina dello spettacolo, senza di loro non si potrebbe fare niente. Quindi è soprattutto per loro che bisogna cercare una soluzione quanto prima possibile e cercare di rimettere in moto la macchina. Io spero che in Calabria ci ritorneremo presto, tra l'altro avevamo anche già dei concerti fissati, però sono stati tutti annullati. Spero di rientrarci almeno per vederla, perché ancora è da quando è iniziata l'epidemia che non ci torno e quindi ho tanta tanta voglia di Calabria. Grazie, ciao a tutti.